Nuovo video di Call of Duty zombie! Allora, questa volta la mappa è di Minecraft, però ci sono gli zombie normali di Call of Duty, quindi è un mashup particolare, però vi dico, questa mappa, raga, è difficile, tanto difficile, perché allora praticamente ci sono meccaniche strane, ci sono parkour dove se cari instant muori, ci sono crafting table da fare, tipo devi mettere uno stick più uno di cobblestone per sbloccare dei ponti che ti permettono di andare in certe zone, una roba delirante, e nulla, è complicato. L'arma rimarremo con la pistola per tipo stay round, non altro, moriremo, fine, ok, la scorsa volta si andi bene, questa volta no, dimmi. Ti dico che in realtà è Minecraft moddato che sembra conto. No, allora, tu sei un cane. Ma cosa vuoi? Ma non c'entra magliette! Lui a prescindere sarà sempre un cane, è quello proprio. Si, si c'entra magliette! Sento, puzza di cane! E tu, Stef? Facciamo un sondaggio per questo video, puzza di più il cane o gli zombie? Gli zombie. Stef, sta attento, sta attento. Sì, ma è il cane? Ma, gli zombie. Ragazzi, stanchilla? Sordo. Allora, sordo non son più, perché questo video esce un po' di giorni dopo, spero che non sarò più sordo. Però adesso sei sordo. Spero nel futuro. Però adesso sei sordo. Andate a prendere l'arma sopra. Quando uscirai io non sarò più sordo. Però adesso lo sei. Ma non mi puoi dare nel sordo. Sei sordo in questo momento. Devi assicurarti che lo sono anche in futuro. È un lasso settoriale, è un trippichire. Stai facendo un clickbait se dici che sono sordo. E questo video qua si chiamerà Call of Duty, ma Stef è sordo. Fake news! No, è vero. Tutto vero e non rubarmi gli zombie puzzolenti. Puzzolenti! Attenzione! Parole pesanti. È morto. È morto. È morto. Dai. Io non ho altro da dirvi. È lì a terra. Per due. Mark, ciao. Dimmi. Ma quindi cosa facciamo? No, Mark, come stai? Fere, io sono bravo. Raccontami la tua vita. Dai, racconta. Quando sono venuto lì a casa tua, sono stato bravissimo. Sì, sì, sì. Quello è vero. Guarda. Ho detto come un bambino. Avesse fatto il cable management avrei capito, ma era lì fermo a non far nulla. Salite, salite, salite. Andiamo in cielo, forza. Fere, non fa su. Cioè, giù. È molto meglio giù. Non è vero. C'è nessuno su. Ho capito, ma è meglio vivi che morti. Guarda, qui va bene, mi metto in quest'angolino. È un'ottima filosofia quella. Vero? In quest'angolino va bene. Cioè, il nostro obiettivo è sopravvivere. Se per loro non vogliono salire, abbiamo vinto. Devo comprare colpi, vado sopra. Ve li chiamo. Munizioni, le ho prese io, le ho prese io. Bravo, bravo. Grazie. Ma mica si doveva stare su. Noi siamo sulle scale alla fine, basta. Noi siamo sulle scale. Instant kill. È finto round, vero? È finto round. Apriamo. Apri questo, ma non andate. Rimaniamo in questa zona, perché è più facile da gestire. E' più facile da gestire in questa zona. Marci, devi pagare tu, sei tu che hai i soldi. Ok, saliamo. Torniate su, tornate su, però, tornate su. Esatto. Ma io li seguo, sto qua. Marco, bravo, d'altra parte, veloce. Io sto usando la pistola classica, perché con gli instant kill non spreco colpi. Ma perché ti sei mortissimo? Sono uno stratega, sono uno stratega. Apriamo ancora, quindi, gli instant kill. Sì, 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 guarda, lo vedo inci, lo vedo in sotto, esatto. La leggette la scritta stratega? Non ne sono accorta nel momento in cui lo sto dicendo. Lego solo la scritta sempre scarsa. Però, raga, non fa il quinto round con una pistola, ok? Sali, 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 sali. Ma non è gestibile. Non è gestibile. Presa, presa. Ok, io provo... Occhio, Marci! Ma perché non muoiono con la bomba, mannaggia loro? Non lo so. Non muoiono subito. Raga, ecco. Non muoiono subito, muoiono subito. Noi ricompriamo munizioni e andiamo al prossimo round. Compriamo tutte le munizioni adesso, così ci siamo tutti con le munizioni. Sì, 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 sì. Credo sia il round dei cani, eh. Se salgono si fa prima. È il round di Marche, raga. No, ragazzi, sono caduto. È morto. No! È morto. No, è il round dei cani. No, è il set quello dei cani, mi sa. No, è il sei, è il sei. Ok, arrivo. Eccoli! Cani! Io ho con munizioni. C'è Marche! Ma ha paura! Ma cosa vuoi da me? Raga, fanno paurissima, arrivano con i fulmini. E anche Marche fa paura. Io sono bravo, buono e bello. Quindi, cosa vuoi da me? Nessuna delle tre. Ma cosa vuoi? Scegli tu quelle più grave. Mi è staccionando un sacco, ragazzi. Sono sto sponchillando. Eh, Marci, sei. Sponchillando. Marci è un campione. Sì, ricerita. Cioè, a colazione lui beveva quattro litri di latte. No, io bevevo tra yarding, altro che. Eh, vedi, è quello il problema tuo, Marci. Io bevevo giocchi per famiglie. Ma ragazzi, ma stiamo buggando il gioco. Non si può fare sta cosa. Allora, andiamo? Chi se ne frega, Marci. Sì, ma guarda dietro, Steppo. Allora, sono io quello che mi sono. Ma Marco, Marco, siamo qua. Siamo qua, Marco. Siamo qua voi. Il vostro posto è andato. Stavano le munizioni, vado a prenderle. Steppo, io non te lo consiglio di fare quello che è appena fatto. Vero? Però ce l'ha fatta. C'è un cane che ha fatto un cane. Per l'occhio! Corro, 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 corro. Raga, continuate a stare nelle zone safe se non siete in grado di muovervi. Sennò io sono sopra. Devo prendere munizioni. Ok. Vado giù, io, Marco. Allora, io ho fatto... È finito il rondo adesso, credo. Prendere munizioni! No! Vi dicevo, io praticamente sono riuscito a fare il parkour. Ok. E sono nella zona e dove si comprono le armi OP. Quindi io sono messo bene ora. Io lo faccio il parkour, raga, non lo faccio. Ok, io lo faccio. No, ve lo dico, io non lo faccio. Non me la sento. Io oggi spare e basta. Ok. Non lo fate, Marco? Mamma mia, di Marco. Ma come si prendono gli sticks? È la cobblestone. Dove steppo? Dove si compra? È sulle scale, è sulle scale. Sto arrivando anch'io. Raga, è pieno di zombie. Allora, la cobblestone si trova alle miniere. Raga, aiuto. Raga, dovete tornare su. È l'unico modo. Raga, miseria. Torno su, torno su. Perché siamo divisi. Mi fanno malissimo. Allora. Ok, munizioni. Bravissimo. Mi seguono. Accidente, raga, accidenti. Esatto. Raga, qualcuno che ha preso le armi. Torni da ferre, però. Perché ferre lì è da sola allo start. Eh, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Sto arrivando io, Marce. Raga, sono troppi, sono troppi. Credo... Ah, no, ok. Sto con Marco, sto con Stef. Sto con Stef, ragazzi. Cioè, quello è il problema. Sto, Stef, sono con te. Ok. No, Ferre, aiuto. Eh, aiuto cosa? Ce ne sono troppi. Mi ha teletrasportato. Dove? Qua, dove ci sono... Che arm è questa? Raga, voglio, sono troppi. Mi avete mollato qui. Eh, non lo so. Siete morti entrambi, raga? Sì. Eh, Stef, avevo un'ordata dietro. Eh, lo so, il problema è che è morto Marce. Hai sbagliato il parkour, vero? No, io non l'ho mai fatto. No, Marce, dico. L'ultimo mi ha tipato dai zombie e diranno una massa. Eh, ma ti ti passa se sbagli il parkour? Esatto. Lo so, però non mi aspettavo che mi ti passi in bocca la morte, capito? Eh, sì. Eh, sì, è così, sì, sì, sì. Ti teleporta al centro, per quello ti ho detto se sbagli il parkour e instant morto. Occhio, non fammi venire il panico. C'è l'instant kill. Se lo prendiamo, possiamo tornare... Sono caduto in acqua. Porca miseria! Raga, è difficilissima comunque. Eh, lo so. Marci, vieni, 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 veloce, veloce, veloce. Ok, sono ritornato. Vieni, 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 vieni. Io no, però, raga, io no. No, sei un campioncino. Ora sì, ora sì. Vai, veloce. Premi F! Non riesco! Vado su a comprarmi un'arma, raga. Oh no, no, ragazzi. Allora, restiamo su, torniamo su. Torniamo su. Comunque questa mappa è difficilissima, eh. No, ma è veramente tossa, eh. 350 volte, l'hai detto più quello che è un gioco vero, 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 vero. È grave, allora. Esatto. Aiuto! Sì. Marci! Mi state bloccando! Prendi quella bomba, prendi quella bomba! Mi stai bloccando! Prendi quella bomba! Raga, non si è a te. Madonna, ragazzi. È la nascita di un film, Fere. Aiuto, eh. Dovete darmi un premio. Le munizioni. Ma se l'ho presa io, l'ho presa io. Ma se mi sono lanciato solo. Ma, ma... Mi hai lanciato Marchio, l'ho vista. Io non lo so, eh. Dalla mia visuale l'ho presa io. Raga, il cane si vanta di cose che non fa. Esatto. No, non lo so, ce l'ho visto. Ma, Fere, non sono sicuro questa volta. È un atteggiamento pesante. Ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Raga, aiuto, sono troppi. Ho fatto la bomba, ho fatto la bomba. Mi incassero delle craft in table. Dall'altra parte bisogna andare. Salvate Marchio, salvate Marchio. Io devo fare parkour. Aiuto. No, eh, Marci... Non facciamo entrambi parkour. Eh, ok. Torna indietro, torna da loro. Raga, tornate su, io faccio parkour e provo ad andare... Porca mi... No, raga, è impossibile questa, ma... Ma come fai a fare il parkour se sei in ansia? Raga, abbiamo trovato un pompa. Stiamo cercando di fare il parkour tenendo uno zombie vivo. E qua... Allora... Allora... Ok, praticamente se io premo questo... Ho disabilitato il parkour! Wow, bellissimo! Buono, buono! Allora, tutti alla torre, venite veloci. Occhio a non cadere qua. Qua si può cadere. Non cadete nel ponte. Andiamo, andiamo, andiamo. Prendete il CUDA, mi raccomando. Dovete prendere quello che sta qui, è più forte. Questo. Ok. Qui da me. Ok. Qua quanto costa? Ce li ho. Ok, 1.250. Adesso si sale perché... Di sopra, venite tutti, venite tutti, venite tutti. Ok. Del chug mi sa... No, speedcola. No, praticamente... E se paghiamo questo bottone, costa 2.250. Ok. Ok. Non so cosa fa, ma penso che ci apra le fence. Secondo me ci apra le fence. Andiamo a controllare, veloci. Mi raccomando, con il zombie piccolo non sparate. Ragazzi, qui ha aperto. Chi si ha aperto? Avevo ragione io. Qui, qui, qui. Arrivo. Allora. Cos'è sta roba? Qui c'è... Credo... Non capisco cosa ci sia qua. Cose richieste, ma non si capisce cosa. Non capisco cosa c'è una barca. Posta 2.50. Sì, 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 sì. Ah. Ah, sì. Per andare dall'altra parte, quindi del più... Ma che bello, provo? Vai, 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 vai. Ciao, ragazzi! C'è il mule, c'è il juggernaut lì. Dovrebbe tornare, Steph, devi mandarci indietro, eh. Come? Devi ripagare? Devi ripagando, credo. E quindi devo tornare anche io, però. No. Raga, ho preso il generatore per mettere la corrente, ma non so dove devo piazzarlo. Raga, raga, possiamo pagare noi. Se paghiamo noi, torno indietro. Io ho finito i soldi, però. Dovrei aver pagato il bottone che apre la zona del Nether, vado a vedere. Comunque avevo ragione, è aperto qua. Bellissimo! Bello! No, raga, spawn non è come, guarda. No, raga, c'è solo un botto da me! È la fine. Ok, chi l'arte, chi l'arte? Find the light, the torch. Cioè, il diventerà trovare le torce e accenderle. Ragazzi, a 30.000 punti possiamo finire il game. 30.000? Non sono molti. Però è hard la mappa, Steph. Ma non lo so, ci proviamo, ovviamente. Qua c'è un'altra zona dove può spawnare il coso. Questo fa puntini puntini. Ciao, zombie, sei molto simpatico. No, vabbè, raga, è impossibile. Ma qui sotto? C'è una torcia lì sotto. Te l'ho detto, secondo me. No, però c'è un altro pezzo, eh. Ho trovato un pezzo di qualcosa. Di arma, sì. Sì. Sì, sì, sì. Come faccio? Ah, zombie. E l'hai accesa però sta torcia? Prima non era accesa. Dici, Fere? Sì. L'hai accesa, quindi hai trovato qualcosa per accendere le torce. Quindi quei pezzi che io sto prendendo mi fanno accendere le torce? Vedi, Steph, che le stai accendendo. Sto accendendo tutte le torce. Quello che sto dicendo io, che se stessi avvicino le accende. Eh sì, ma non c'entra neanche avere quei pezzi alla fine. Le puoi proprio accendere, basta che ti avvicini e fai F. Ah, ok. E' un'altra lì. Dove? Dietro di te, dietro di te. Sinistra, destra, lì. Ah, ok. Allora, vada, 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 vada. Vediamo che succede. Beh, qualcosa succederà. Sono finite. Questa è già accesa, raga. Guardate da me. Aspettate. Sì, sono accesa. Occhio, Marci! Qua? Sembra che si deve aprire qualcosa, comunque. Secondo me quello è un passaggio segreto. Sei andato sotto? Sì. Ticante io ho fatto tutto. Eh, non ne vedo neanch'io, torce. Vado a ricontrollare la torre iniziale. Perché secondo me lì c'erano altre cose da accendere. Comunque ha tutto a che fare con questo posto, vero? Allora, qua niente. Sì, perché dice valuables required. Queste sono tutte accese, sì. Ok, quindi pago di nuovo qua. E voglio vedere se magari c'è uno stick nascosto dietro la casa. Perché lì non l'abbiamo guardato benissimo. Potrebbe. È l'ultima speranza. È l'ultima speranza perché poi non puoi più muoverti. Secondo me lì si può andare? O mi fa esitare? Aspetta, ma lì c'era un pezzo d'erba. C'era un pezzo d'erba lì dietro la casa. Eh, esatto. È quello che ho visto anche io. Perché qua non c'è altro. Però da dentro? Allora, da dentro secondo me no. Perché guardate? Sì, invece c'è il balconcino. Sì. Non posso scendere. Dai! Stiamo pensando troppo rispetto al creatore ama. È finita. Da qua faceva scendere. Da lì faceva. Che brutta fine. Io mi arrendo anche perché poi spawniamo senza armi con degli zombie fortissimi. No, ma più che altro posso anche continuare a chillarle questi zombie fortissimi. Ma poi? Io mi arrenderei. Perché non si è aperto qua? Non ha senso. Vediamo se magari sta nascosto dietro al redstone. L'ultima mia speranza. Mentre arrivano gli zombie io controllo sto dubbio e mi arrendo. Vai. Ok? Cioè sono stato un campionissimo oggi secondo me. Siamo tutti d'accordo ma sta mappa è impossibile. Io non sono tanto d'accordo. Non sei d'accordo? No. Davvero? Redstone found. Chi è che sta trovando redstone? Marci. Ma io li... Io non ho trovato... Io non ho trovato niente in realtà. Io... Bomba atomica. Io non sono felice. Lo dico. Neanche io. Raga ma se spacco quelli mi danno i diamanti. Figo. Sì infatti quello che stavo notando anche io è che ho trovato più facilmente i diamanti... Dalla redstone. Dalla redstone. Mi sembra poco credibile. Mi sembra poco credibile questa cosa. Però... Va bene così. Diamond found. Sì ne ho preso due io. Va bene. Campioni. Raga e niente ci fermiamo così perché non capiamo come si va avanti in questa mappa. Se la scopriamo in futuro magari la recuperiamo e la affiniamo. Certo. Forse. 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 Non è una promessa. Dipende dalla difficoltà. Non lo so. Dipende da tante cose nella vita secondo me. Però... Vabbè. Va bene così. Noi siamo stati bravi. Abbiamo fatto quello che potevamo però la mappa era oltre le aspettative possibili umane di tutto il mondo. Difficile, difficile, difficile. Davvero, davvero difficile. Qua sotto è come sempre che ho poi altri video. Iscrivetevi al canale di cappellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.